Ciao! Buongiorno! Oilalà! Oilalà, Concorezzo! Siamo gli Oblivion, siamo al sole, in vacanza, a mostrare il nostro camerino cinematografico. Eccolo, stiamo girando un film che si intitolerà Vieni anche tu a Concorezzo il 14 aprile con gli Oblivion a vedere Otello, la H e... Un spettacolo meraviglioso che dedichiamo al nostro amico Brambilla Senza il quale non esiste Concorezzo Senza il quale non esistono neanche gli Oblivion, perché se noi non veniamo a Concorezzo siamo nulla. E' uno di quelli che crede negli Oblivion fermamente, grande appassionato gaberiano come noi nello spettacolo ci sarà nulla di Gaber, ma ci sarà... Però Otello era un grande fan di Gaber Ma la novità è che c'è Daniel Chan Metti la cera, togli la cera lo vedete qui all'estremità dello schermo No, è uno spettacolo meraviglioso, per cui stiamo mietendo grandi successi e con cui stiamo girando già dall'anno scorso e con noi non saremo soli da parte che ora siamo in quattro perché capite i tempi di crisi si tagliano anche Oblivion Graziana esci dal bagno per favore sta tirando lo sciacone con noi ci sarà in scena il grande maestro Dennis Biancucci con la musica dal vivo pianoforte, sarà una grande novità e lo Shakespeare e il Verdi come il Brambilla sono i nostri grandi ispiratori li massacreremo come il Brambilla in quella situazione imperdibile vediamo l'ora di tornare a Concoretto il suo nome era Cerutti Gino ma lo chiamavano Iago cerchio amici un incontro un incontro Grazie a tutti.